Ciao Jenny, amore, ci siamo salutati alla stazione, mi dicesti sarà una bella esperienza, mi divertirò e ti farò divertire, tu sei serena e guardami, avevi ragione, io però pensavo quando sarà presa dalla nostalgia o quando aprirà quella sua parte di cuore ferito, come potrò aiutarlo? E allora ecco che ti dico, smettila di farti del male, ponendoti delle domande a cui probabilmente non avrai mai risposte, chi non ti ha vissuto non potrà mai capire di quanto amore si è privato, sta ancora a chiederti se sono orgogliosa di te? Non potrei esserlo di più